Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo video! Perché siamo qui faccia a faccia, questo è un video dedicato a Minecraft. Direte come, esattamente così. Nelle mie mani c'è l'album delle Minecraft Treasure Sticker. La raccolta di figurine di Minecraft è realizzata dalla Panini. E ovviamente oggi le andremo a sbustare insieme, ma prima vi faccio capire bene di che cosa si tratta. Questa raccolta di figurine contiene 256 figurine, tra cui olografiche, esattamente 32, e 16 argentati. Ci sono anche degli sticker speciali che ci permettono di vedere dei video collegati tramite l'app di Panini Collectors. Qui con me ho un sacco di bustine, come vedete. Fa proprio un sacco, un sacco. E anche il team da collezione che contiene 15 bustine e 3 carte limitate. Va bene ragazzi, fatto questo mega preambolo, andiamo subito a spacchettare. Allora ragazzi, io direi di partire dalle bustine. Come vedete qui ne ho davvero, davvero tante. Quindi ce ne prepariamo qui esattamente 3. Boom, belle zoomate, così si vede tutto bene. Considerate che all'interno di questo box avevo ben 24 bustine. Va bene ragazzi, andiamo con la prima. Intanto che apro questa bustina. E qua, scusatemi se non guardo in facecam, ma sono concentratissimo su quello che troverò qui dentro. Vi voglio dire che se volete acquistare queste figurine, ah, eccoci qui, potete farlo con il link che trovate in descrizione. E avete anche un 15% di sconto con il codice ARENBLAZE15, tutto attaccato e maiuscolo. Allora, qui abbiamo la figurina di un beacon. Come vedete c'è Alex che guarda un beacon, e se la giriamo abbiamo anche il numero, il numero 99. Questa è la figurina numero 99, che poi potremo ovviamente incollare nell'album. Abbiamo poi subito una figurina olografica. Guardate che bei riflessi il ghast. Che figo. Questo pure lo mettiamo da parte. E abbiamo adesso un bastione, con tanto di player che è un po' in difficoltà, nonostante le armature in nederite. Andiamo avanti ragazzi. Mamma mia, che bella questa. Che bella questa ragazzi. È una sorta di maiale, sempre brillante. Queste forse sono le carte argento, che però ha uno stile tipo di graffiti, come vedete. È sempre tutto graffittato, anche sulla stessa skin del maiale. Molto bella questa figurina. Andiamo avanti ancora, e abbiamo un bellissimo fondale marino. Questa è la figurina numero 42, ad esempio. Quindi queste le mettiamo un attimo qui nell'angolo, e andiamo subito ad aprire un altro bustino. Che bello ragazzi, strappo tutto, c'è proprio la gioia di spacchettare, di sbustare. Questa è abbastanza particolare. Perché abbiamo trovato una figurina composta da quattro parti. In realtà queste sono, perché poi ovviamente per appiccicarla potremo staccare le figurine, e andare a incollarle. Se notate, adesso non la alzo, se no la rovino. Cioè, la alzo dopo quando la metto nell'album, logicamente. Ma sono quattro mini figurine diverse. Vediamo come funziona. 199, A, B, C e D. Quindi è una figurina che in realtà ne fa quattro di taglia inferiore, di taglia minore. Figo. Poi vediamo nell'album dove va messa questa, allora. Abbiamo poi il Land Crystal. Eccolo qui. Abbiamo un villaggio nel deserto. E abbiamo una End City. Ok. Ma non finisce qui, perché abbiamo l'ultima figurina, che è, vabbè, giustamente Alex sul Minecraft, che sta entrando forse in una miniera. Figurina numero 208. Va bene. Queste le spostiamo e... Boom. Ce ne spariamo subito un'altra, direi. Apriamo tutto e sbustiamole subito. Ecco qui. A proposito di Alex, che l'abbiamo appena vista, ritorna subito con questa figurina gigante, tutta dedicata a lei. Questa è la numero 117. E poi attenzione, perché anche questa è molto particolare. È la figurina di un Drowned, però tipo uno sketch. È tipo disegnato, se notate. Ed è ancora diversa da quella del maiale di prima. Vedete? Il maiale è in stile graffiti, ma questo è proprio uno sketch, un disegno. Molto bella questa. Figurina numero 245. Ok. E attenzione, perché qui abbiamo altre figurine, mini figurine, cioè è tutta una cosa unica, ma si divide in sei tondini. Questa è la 123. Ah, non c'è scritto ABCD, però penso che si tolgano e che vadano messe in diversi slot questi. Va bene. Poi vediamo. Duello tra cecchini, sniper duel, Steve contro lo scheletro. Perfetto. E qui abbiamo un piccolissimo magma cube che conclude questa bustina. Ok, ragazzi. È arrivato il momento di parlare della Tin. Ecco qui, vi faccio vedere lo zoom della Tin. Eccola qui. È molto, molto bella. Vedete? Questa l'ho già aperta, ragazzi, per vedere che cosa c'era dentro. Quindi adesso vi faccio vedere il contenuto. La Tin, oltre a essere carina, ci servirà anche per contenere le figurine. E ad esempio nella Tin si trovano altre 15 bustine e faccio vedere che oltre a quelle si trova all'interno, si trovano anzi, tre block card. Come potete vedere, si chiamano così perché sono quadrate, come blocchi di Minecraft, che sono cubici. Però non potevamo fare la carta cubica, quindi è quadrata giustamente. E sono delle vere e proprie carte, brillanti, con degli artwork molto fighi. Qui vediamo Alex, che sta craftando cose, si prepara con un equipaggiamento, probabilmente. Abbiamo un bellissimo artwork, dello spawner di scheletri, più tanto di spider jockey, quindi sempre uno scheletro che però cavalca il ragno. E infine questo qui, molto bello, con l'effetto in negativo della faccia del creeper, e tutta questa trama, con l'osselotto che fa scappare il creeper, il creeper che esplode, la TNT. Molto molto carine anche queste. Anche all'interno dell'album, troviamo delle bustine, queste però sono sempre quelle della TNT, e troviamo tre block card. Io ho trovato in particolar modo, questa qui, che ci lancia una sfida, ed è l'Helder Guardian, tra l'altro circondato dagli Axolot, quindi anche dei mob nuovi. Abbiamo l'Ecapret, sempre dalla 1.17, e abbiamo questa, con Alex e Steve, che affrontano le profondità marine. E ora ragazzi, vediamo l'album. Eccolo qui, ve lo faccio vedere, proprio grande grande, con questa zoomatina. Guardate che bella cover. Molto molto carino questo artwork. Intanto all'interno dell'album, troviamo le istruzioni, che ci dicono, con l'app Panini Collectors, possiamo scansionare dei QR code, e possiamo vedere dei video, legati ad alcune delle figurine, quindi animare, diciamo, le scene rappresentate. Perdonatemi il cavalletto in mezzo, ma almeno vedete, da più in alto, l'album, vedete, ci sono tutti gli alloggiamenti, delle figurine, io intanto ne ho già incollata qualcuna, vedete, ad esempio la Creeper Party. La cosa molto simpatica, è che l'album è diviso, in pagine che rappresentano, i biomi, le aree del gioco. C'è la giungla, c'è ad esempio la palude, e così via, c'è il mondo marino, ad esempio, abbiamo, la vita del villaggio, quindi tutto ciò che è legato, ai villager, ai pillager, eccetera, eccetera. Vi voglio far vedere che ho anche trovato questa carta del Creeper, con l'effetto sempre graffito, molto bello, e adesso andiamo anche a incollare quella che abbiamo trovato prima insieme del maialino. Eccola qui, My Nap Repeat. Perché le ho messe off camera, le figurine? Perché io non sono proprio un mago dell'appiccicare le figurine, mi richiede molta pazienza, uno perché sono il tipo di persona che le vuole incollare super precise, infatti mamma mia ragazzi, voglio proprio stare dritto col bordo, purtroppo di contro non sono preciso per niente, quindi tendo a sbagliare, eh l'ho fatto un po' storta, vedete? Mannaggia. E quindi mi ero preso un po' di tempo per incollarle in maniera più decente, infatti questa fatta con calma è decisamente migliore di questa qui, che ho fatto adesso al volo. Mi spiace maialino, però non sono proprio il top per incollarle giuste, guardate anche che bello questo Wither Skeleton, che accompagneremo subito con il Ghast ragazzi, il Ghast che è la 147, che quindi si troverà un'altra pagina in realtà. Eccola qui, mettiamo subito la figurina del Ghast, anche questa ragazzi, purtroppo forse non sarà drittissima. Ok ragazzi, ci siamo, ci siamo, adesso cerco di fare un lavoro quanto più preciso possibile, secondo voi ce la faccio o no? Eh ragazzi, pesa, pesa, ok, ok, ah, cavoli, è un po' storta. Aspetta, aspetta, la recuperiamo, non l'ho incollata molto bene, devo ammettere. Adesso tra le varie sezioni vi voglio far vedere in particolar modo una cosa che ho trovato molto interessante, eccola qui, vedete, questa crafting table viene completata dalle figurine, queste sono figurine e anche questa, così come questa e questa. quindi queste figurine qui che hanno il tondino che si può togliere si possono poi piazzare per completare il crafting, un'idea sicuramente molto carina, molto originale, tipo questa è la 123, la 123 si mette qui per completare una sorta di corsa ad ostacoli. Ah, è un indovinello e poi c'è anche la soluzione. La 199 invece andiamo molto più avanti, eccoci qui, possiamo associare le mini figurine ai quattro slot. Vabbè, qua in realtà è abbastanza palese, il golem, devastatore, strega e wither. Quindi vanno incollati in questi quattro alloggiamenti. Ragazzi, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, l'idea degli sticker di Minecraft è molto interessante, poter completare un album sul nostro gioco preferito. È davvero una bella idea. Se vi interessa, vi ripeto, trovate il link in descrizione con tanto di sconto, con il codice sconto Remblaze15. Fatevi sapere che ne pensate, noi ci salutiamo e io penso magari mi incollo con calma perché altrimenti le faccio tutte storte. Un saluto da Eren, ciao a tutti.